Allora, come sto? Freddy? Sei magnifica! Vieni fuori in fretta! Grazie! Ho aspettato a lungo questo momento! È tutto libero! Cosa? È Freddy? Oh no! È già vicino! In fretta! Devo chiudere la porta! Ce l'ho fatta per un pelo! No, questo no! Troppo tardi! Presa! Per favore no! Stai lontano da me! Ora non potrai più scappare! Cosa? Fammi uscire da qui! Così in fretta non è possibile! Guarda le regole! Quali regole? Ho capito! Quindi per scappare devo diventare chica? Beh, sì! La più bella è affascinante! Aspetto da tanto il nostro incontro, amore mio! È semplicemente perfetta! Già! Ho un gusto un po' bizzarro! Oh, c'è qualcuno! Vieni qua! Un uovo? Siamo vata! Wow! È il pulcino di chica! Stai attenta! Presa! Wow! Ma quanti sono? Incredibile! Wow! Grazie! Ora di sicuro riuscirò a scappare! Fantastico! Lo terrò in bella vista! Cos'è questo rumore? Pokéball! Che ci fa qui? È un po' porverosa! Mi chiedo chi ci sia dentro! Scopriamolo! Pica! Oh! Stai lontano da me! Oh, wow! Un caricabatterie? Proprio quello che mi serviva! Wow! E ora sistemiamolo a modo mio! Mettiamoci al lavoro! Mi sembra venuto abbastanza bene! Giusto? Il primo compito è completato! Wow! Che figata! Che sta facendo? Oh, chica! Che ne dici di una cena romantica? C'è qualcosa che non va? Scusa, mia cara! Lo so! Sei un amante della cucina sana! Te la preparo io! Qualità eccellente! Serviti pure! Oh, sarà entusiasta! Ma è meglio esserne certi! Oh! Rimprescante! Ma passo il serio! Ho interrotto qualcosa! Ups! Eccellente! È ora di cogliere l'attimo! Spero che sia qualcosa di utile! Pronti! Vediamo che c'è qui dentro! Non credo che Freddy si preoccupi tanto del suo aspetto! È il momento del mio makeover! Per prima cosa, l'ombretto! Il rosa starà benissimo con il giallo! Ed eccolo qua! Wow! Molto luminoso! Ora ho bisogno delle liner! Oh, wow! E anche del mascara! E naturalmente il becco! Ora qualche piccolo dettaglio! E questo è quanto! Ha ha ha! Ora sono io il capo! Nessuno può dirmi cosa fare! Stupida gravità! Che cos'è? Fatemi uscire! L'hai fatto tu? Uh, bel trucco! Aspetta un attimo! Grazie! Ehi, aspetta! Quella! È la mia forza dei trucchi! Ridammela! Non farlo mai più! Uh! Una rete ne avrà bisogno! È il momento delle forbici forte! Il tappo è venuto benissimo! Un babaglino! Penso che possa andare bene! Davvero fantastico! Oh, sto facendo progressi! Oh, mia dolce cica! Vuoi sposarmi? Ah, è così dolce! Ma dov'è? Oh, devo averlo dimenticato! Aspetta, amore! Torno subito! Uh, Freddy se n'è andato! Ciao, amica! Hai bisogno di aiuto? Potresti prendermi il suo velo, per favore? Lo farò! Sarà semplice, ci penso io! Oh, eccolo! Sei stata di grande aiuto, grazie! Non c'è di che! Che ci posso fare con questo? Ci sono! Basterà qualche punto... Et voilà! La mia gonna è pronta! Spontiamo un altro compito! What? Chissà che c'è lì dentro! Devo vedere! Vediamo! Wow! Sono qui! Oh, cos'è questo? Sembra Freddy! Nessuno può nascondersi! Proprio quello che mi serve! E adesso che faccio? Ci sono! Spero che funzioni! Devo provare! Stringiamo! Ahah! Sarà divertente! Vediamo se questo impianto elettrico è in grado di reggerlo! Pronti! Oh, non ho trovato un posto migliore! Quindi lo attacco qui! La trappola è pronta! Aspettiamo Freddy! Ma dove mi nascondo? Oh, non mi noterà qui! Ci sta mettendo tanto! Non riesco a sentire niente! E io che ero preoccupata! Oh no! Me ne ero dimenticata! Non questo! Sono tutta bagnata! Oh! Una nuova acconciatura! Ancora tu pensavi di scappare? Non ci riuscirai! È ora di tornare in gabbia, uccellino! E non credere che ti lascerò andare! Mi stai facendo impazzire! Stai ferma lì! Perché sono così sfortunata? Wow! Questo è perfetto per Chica! Farò delle trecce! Oh! Molto comodo! Wow! Sembra incredibile! Fico! E ora all'altro lato! Penso che andrà molto meglio ora! Davvero meraviglioso! Inizio a piacermi! Aggiungiamo delle piume! Che belle! Un passo avanti verso la libertà! Amore mio! Ho una sorpresa! Serviti pure! Avanti è tutto fresco! Mangia! Ho un'idea! Prendi questo! Oh! Lo sapevo! Credo di poter farci qualcosa! Forte! Scaldamuscoli siete pronti per un restyling? Aggiungiamo qualche glitter così brilleranno ancora di più! Ops! E ora mescoliamo il tutto! Fantastico! Sono meglio di quanto immaginassi! Molto vivaci e deliziosi! E mi stanno benissimo! E anche a Chica! Sono splendida! Ma che sta facendo? Uh! Sei sola qui, bellezza? Non è come pensi! Sì, lo so! È un tipo geloso! Beh, ora siamo soli! Sembra che i suoi circuiti siano saltati! Ok! Arrivo subito! Che strano! Devo scappare! Prendi questo, cella! Oh! Piume! Beh, dipingiamole! Così colorate! Ora mescoliamo! Il risultato è up! Che braccialetti fantastici! Wow! Il set di Chica è pronto! Bohu! Ora siamo come due piselli in un baccello! Che ne dici di un altro appuntamento? Ho i miei microchip! Che bellezza! Allora, come sto? Freddy? Sei magnifica! Vieni fuori in fretta! Grazie! Ho aspettato a lungo questo momento! Aspetta! Penso che ora andrà meglio! Provala! Oh, ma perché? Non voglio che le guardie ci prendano! Soprattutto non questi due! Ok, andiamo! In fretta! Non hanno idea che siamo qui! Fai attenzione! Questo è il posto giusto! Eccolo! Ti richiamo io! Cos'è questo rumore? Michael, sei tu! Chi c'è lì? Proprio negli occhi! Oh, silenzio! Ci noteranno! Questo ti aiuterà! Provalo! Non è affatto d'aiuto! Smettila! Andiamocene da qui! Ehi! Spostati! Oh, sto sognando! Ok, ora basta! Ci sono! Balliamo insieme! Cosa? Non essere timido! Ti guiderò io! Wow! Lascia che ti baci! Oh, sto arrossendo! E ora? Niente mani! È stato il miglior ballo della mia vita! Oh, chica! Chica! Ma dove sei andata? Oh, pensavo che fosse vero amore! Ehi, Kevin! Sono qui! Ciao! Non spaventarmi mai più! E come ti ho già detto, niente Freddy qui! Ehi, non osare! Questo è mio! Dammi quel disegno! No! Smettila! Mi stai spaventando! Eccolo! Non lo vedrai mai più! Perché? Freddy! Ehi, tu! Che c'è? Freddy, aiuto! Wow! Vedo che hai un vero talento! Ora sei parte della famiglia! Cosa? Grazie, Freddy! Sono così felice! Che traditrice! Non la perdonerò mai! E adesso? Seguimi! Ti mostrerò tutto! Questa è la tua nuova casa! Sarà più confortevole! Ti piace? Wow! C'è tanta roba! Cos'è questo? Stai parlando di questo? Ora te lo faccio vedere! Wow! Che bello! È incredibile! È una stampante? Vediamo che è! Un manuale! Posso diventare come Freddy? Mi piacerebbe! Penso che dovremmo iniziare dal trucco! Oh! Meraviglioso! Grande idea! Freddy! Che c'è qui? Oh oh! Dei colori! Ne avremo bisogno! Tutti i colori sono qui! Non muoverti! Ok! Sei così carino! Mi piaci già! Ragazzi, che ne dite? Forse è! Oh! Dov'è Freddy? Dove sei? Oh! Paura! Non averne! Mi insegnerai a farlo? Ma certo! Fammi vedere il tuo urlo! No, no, no! Provano con Chica! Ok! Oh! Mmm! Delizioso! No, no! Lascia che ti faccia vedere! Ricomponiti e spaventa! Oh! Che paura! Cicca! Sei così spassoso! Oh! Molto divertente! Oh! Ora devo andare! È ora della consegna! Cosa? Freddy! Aspetta! Entrerai lì dentro? Oh! No che non si entrerà! Ciao a tutti! Oh! Hai dimenticato la testa? Non lasciarla a casa! Ora va meglio! È tutto pronto! Piccola, vieni qui! Questo è per te! Ora vai! La ragazza è tornata! Ha dimenticato qualcosa? È molto sospetto! Meglio chiudere le porte! Mi chiedo che cosa abbia in mente! Che strano! Solo una consegna? Beh, vediamo che c'è lì dentro! Wow! È pesante! Avanti! Non finirà bene! Ve lo sento! Oh! Chi sa che c'è qui dentro? Che profumino! Deve essere qualcosa di gustoso! Buon appetito! Oh! Devo andarmene in fretta! Sei libero, piccolo! Andiamo a casa! Ehi, piccolo! Questo non va bene! Ho bisogno di riposare! Oh! Com'è andata? Ho deciso di pulire! È fantastico! Mi riposerò! Oh, che bello! Che stai facendo? Io sto pulendo! Scusa, chica! Ok! Ma è l'ultima volta! Oh! Questo è un malinteso! Non preoccuparti! Non succederà più! E ora che facciamo? Pulirò io! Hmm... Forse posso fare qualcosa! Uh! È semplicemente meraviglioso! Wow! Piccolo! Vieni qui! Che c'è? Wow! Che costume! Sì, ma stavo chiamando l'altro, piccolo! Ok, ho capito! Che succede, mamma? Wow! Grazie! Non è tutto! Wow! Un costume! Tieni, devo provarlo! Semplicemente fantastico! È perfetto! Oh! Sembra molto spaventoso! A proposito, anche noi l'abbiamo nella nostra lista! Proviamo! Ti piace la mia? Che ne pensi? Uh! È troppo grande! Non vedo niente! È così divertente! Non funziona così! Ehi, amico! Puoi aiutarci? No! Ehi! Ok! Ora basta! Sto parlando con te! La bambina ha bisogno della sua maschera! Avanti! No! Ma non è giusto! Ho un'idea! Chica? Sì? Posso avere una piuma? Grazie! È proprio quello che mi serve! Ehi, prendi! Mettila! Mi fai il celletico! Ok! Grazie! Sei il migliore! Oh! Ha funzionato! Oh! Chica! Grazie! Ora puoi riprenderlo! Ok! Fantastico! Penso che questo cappello non sarà male! Ecco qua! Dobbiamo solo decorarlo con un piatto! Un attimo! Le sopracciglia! Perfetto! Oh! Sembra carino! Chica! Oh! Bellissimo! Dobbiamo dare questa maschera alla bambina! Oh! Ho tanta fame! Oh! Chica se l'ha dimenticato! Oh! Come fa a mangiarlo? Questi cereali fanno schifo! Ok! Ciao a tutti! Oh! Prendi! Serviti pure! Ho un regalo per te! Una maschera! Che figata! Ti voglio bene! Mi è appena venuta un'idea! Ehi ragazzone! Prendi! Oh! Penso che le piacerà! Questa è per te! Wow! Questi orecchini sono molto carini! Oh! Ti ho visto e mi sono ricordata di loro! Che belli! Fighi! Anche a me piacciono! E a te, Freddy! Sei bellissima! Bu! 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 Cosa? Aspetta! E le tue scarpe! Non puoi andare in giro così! Un attimo! Che noia! Ora mi addormento! Niente di nuovo! Passo di poter dormire! Sogni d'oro, sergente Kevin! Oh! Semplicemente meraviglioso! Oh! 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 Che fortuna! Sembra che stia dormendo! No! Svegliamolo! Svegliamolo! Penso che potrebbe essere un'idea! Mi farò un paio di selfie divertenti per ricordare questo momento! Uh! Questo è esilarante! Uh! Queste zampe sono perfette! Ehi! Dammela! Oh! Oh! Fantastico! Oh! Credo che queste ti stiano meglio! Proviamole! Sei bellissima! Svegliati e risplendi, mia cara! Oh! Perché è buio? Oh! Che cosa sono? Beh, mi piacciono! Freddy! Ciao, ciao! E grazie per queste zampe! Oh, tu! Vieni qui! Uh! Oh! Credo di essermi rotto il tallone! Oh, no! Questo Freddy crea sempre problemi! Ehi, iscritti! Avete visto mio fratello gemello? Piccola, sei occupata! Ho una cosa per te! Wow, sono così morbide! Grazie, Freddy! Anch'io ho un regalo! Dei guanti! Wow, fantastici! Perfetta! Penso che tu sia pronta! Chica ha fatto la guardia! Ok! Ora lo spaventeremo! Sì, sono d'accordo! Seguimi! Ora spaventalo, come abbiamo fatto insieme! Wow! Oh! Chica! Oh! È così carino! Sei così carina quando ti arrabbi! Vieni da me! Oh! Ok, ho capito! Oh! Che paura! Oh! Chiamami bellezza! Mi raccomando! Au revoir! Sì! Nemmeno Kevin ha avuto paura di me! Devi fare un po' di pratica! Mi ero dimenticata degli artigli! Questo le risolleverà sicuramente il morale e anche i guanti serviranno! Ora prendiamo un bicchiere! Iniziamo a tagliare! L'importante è non tagliarsi il dito! Ecco fatto! Abbiamo preparato tutto! E ora dipingiamo gli spazi vuoti di nero! È ancora più spaventoso! E ora combiniamo tutto con i guanti! Possiamo anche usare dei fili! Ecco fatto! Sembra perfetto! Un po' di più! Gli artigli sono pronti! Ora la mia piccola diventerà molto spaventosa! Grazie, Freddy! Ti staranno benissimo! Wow! Fantastico! Molto meglio ora! Ha funzionato! Bellissimo! Avanti! Fagli vedere! Spero che mi chiami! Oh! Freddy è davvero qui! Più in fretta! Devo difendermi! Non avvicinarti! È scompasso? Ci è mancato poco! Devo chiudere la porta! Forse se n'è andato! Pensavo che fosse la fine! Che cos'è? Lasciami andare! Ti prego! Devo andarmene! Devo scappare! Oh mio Dio! Che ore sono? È mattina! Che fortuna! Ok! Ora basta! Ciao! Dov'è il mio sostituto? Ehi, collega! Eccoti qua! Ora è il tuo turno! È arrivato il momento di andare in vacanza! Me la sono proprio meritata! Buona fortuna, partner! Anche a te! Bonita! È ora di riportare questo posto all'ordine! Freddy! Con una scatola! È lì! Spostati! Avanti! Oh! Ce l'hai fatta! È pericoloso! Ma che cos'è? È molto sospetto! Credo sia una trappola o forse è un regalo! Controlliamo! Ehi! Tu chi sei? Ragazza! La tua pizza! Ma non abbiamo ordinato la pizza! Strano! Ehi! La scatola è vuota! Ottimo lavoro, compagna! Andiamo! In fretta! Che ci fai tu qui? Hai cinque minuti per andartene o ti aiuto io? Alzati avanti! Smettila! Basta! Battene dal mio divano! Cos'è? Non ti toccherò mai più! Però posso usare una piuma! Alzati! No, questo no! Ora dovrò lavare tutto il costume! Questo ti sveglierà di sicuro! No, per favore! Perché è tanto spaventato? Ok, bomba, aspettami! Farò un costume per la bambina! Sono sicuro che le piacerà! Tagliamo la staffa in eccesso! Ottimo! La parte interna è pronta! Ora avvolgiamo tutto in un tessuto di peluche! E incolliamolo con una colla a caldo! Fantastico! Possiamo avvolgere il tessuto! Questa armatura non è solo affidabile! È anche molto figa! Aggiungiamo dei fili! Oh, che bello! Oh, il costume è pronto! Ehi, mi hai chiamata! Oh, prova questo! Sono certa che ti starà benissimo! E ora continuiamo! Guarda, sei quasi diventata una vera membra della famiglia di Freddy! Continuiamo allora! Che succede adesso? Cos'è questo casino? Qualcuno odia la propria vita! Beh, allora gliela porterò via! Oh, quanti bei vestiti! Ha già tanto che penso di cambiare il mio look! Oh, chica! Sei già bellissima! Come avresti tutti i vestiti che vuoi! Sono il tuo più grande fan! Voglio conoscerti! Il mio amore! Ehi, ma dov'è andata? No! Bubu, sette te! Ed eccomi qui! Chica! Posso avere il tuo autografo? Cos'è questa assurdità? Le tue piume? Ci riempirà il mio cuscino? Cosa? Ma che sei stupido! Dove hai preso questa foto? Pazzesco! Sono un tuo grande fan! Wow! Siamo insieme! Amore mio! Non vedo l'ora di ballare con te! Sei il mio cigno giallo! Chica! Sei la luce dei miei occhi! Ma che stai facendo? Ora ti mangio! Oh, cara! Concedimi un ballo! Ti prego! Non posso rifiutarmi di ballare! Svolanziamo insieme! Oh, sei così dolce! Ti mostrerò la mia faccia! Sempre la stessa storia, ma ormai ci sono abituata! Oh no! Freddy è qui! Non può essere! Freddy sta arrivando! Dammi un minuto! Ti piacerà! Che succede? Che succede? Aggiungiamolo agli effetti speciali! Ora va meglio! Ti piace la mia hit? Piccola, è arrivato il momento! Grazie per avermi aspettata! E questa chi è? E questa chi è? Dovresti avere paura! Capito! Brava bambina! Ottimo lavoro! Continuiamo il restyling! Non preoccuparti! Andrà tutto bene! Ora collegheremo i figli e diventerai una di noi! Non mi sento tanto bene! Sì, paziente! Ancora un altro po'! Missione compiuta! Ora prendi la guardia! Chi è quello? Oh no! È Freddy! Dov'è andato? Giochiamo! Aiuto! Fantastico! Attenzione, guardia! Freddy se n'è finalmente andato! Hai Boom Boom! L'hai visto anche tu! È così spaventoso! Dobbiamo controllare! È terribile! Sigilla la camera subito! C'è mancato poco! Fantastico! Ora tocca a te controllare! Cosa? Non ci andrò! Dai, in fretta! Bacchi tu! Non è possibile! Che potrebbe succederti? Ok, non solo un codardo! Sono cieco! Spero vada tutto bene! Non fa paura! Aiuto! Resisti! Ti aiuterà! Non mollare! Grazie, collega! Chiudilo fuori! Ci è mancato poco! Mi hai quasi strappato la gamba! Ma tu sei arrivato in tempo! Scommetto che fa male! Lasciami curare la ferita! Ora va meglio! Sì, un po'! Queste ti serviranno! Grazie! Sono molto utili! Guarda l'ora! Abbiamo superato la prima notte! Uh-uh! Ottimo lavoro! Segniamolo sul calendario! Voilà! Pronti! La prossima notte! Fred! Abbiamo un nuovo obiettivo! Vediamo quanto possono resistere questi ragazzi! Nessuno è mai sopravvissuto a tutte e cinque le notti! Non credo che siano speciali! Li aggiungeremo alla collezione! Sei serio! Sono pronto! Sembra deliziosa! Fermati! Questa non è per te! Ti stai cacciando nei guai! Perché sei così nervoso? Non farmi arrabbiare! La mia testa! Te ne pentirai, chica! Sembra che tu abbia dimenticato chi sono! Ma di pietà, Freddi! Rilassati! Abbiamo cose più importanti da fare! Tutto libero! E anche qui! Vediamo nella sala! Oh no! Cosa? Michael, vieni qui! Freddi non ci lascerà in pace oggi! Gabby, girati! Sta rompendo tutte le telecamere! Che mascazzone! E adesso che facciamo? Dobbiamo prepararci alla notte! Ci sono! Mettiamo queste telecamere di riserva! Non guardare me! Io ho un problema alla gamba! E mi fa male il cuore! Godardo! Ok, lo farò io! Fa male! Basta fingere bugiardo! Ha funzionato! Già! È proprio questo il partner che sognavo! Allora devo salire così in alto! Non ci arriverò mai! Anche saltare non serve a nulla! Ho 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 ho! Grazie! Ora farò molto più in fretta! Perché Gabby è così spaventato? Ecco qua! Riesci a vedermi? Ciao Gabby! Bel sound! È stato più facile di quanto pensassi! Cosa? Freddi! Sei tu? Lasci a vedermi andare! Che succede? Michael, lascia da lì! Veloce! È molto vicino! Lasciami andare! Non mi sente! Michael, scappa! Non posso guardare tutto questo! Niente ci aiuterà! Oh! Tempismo perfetto! Ora non è più il mio turno! Sì? Chi è? Una guardia! Potrebbe essere d'aiuto! Devo chiamarla! Pronto, signor Huggy! Ho bisogno di una guardia! Oh! Il mio cuore si è quasi fermato! Mi proteggerai da lui? È questo, Freddi! Lo cerco da una vita! Wow! Che colpo! Lo stenderò in due secondi! Ehi, Huggy! Girati! Cosa? Eccoti! Qui? Non aver paura, Gary! Eh? Perdente! Che farai adesso? Ho solo bisogno di un compagno di allenamento! E questo tu lo chiami un colpo! Il mio braccio è rotto! Smettila a giurlare! La testa sta per esplodere! Ma non la mia! Tre punti! Sei un vero mostro! Ti prego! Non farmi del male! È troppo tardi, Gabriel! Battene! Ah! Per favore! Smettila! Huggy! Scusa! Caglia! Ma che stai facendo? Non vedo più niente! La mia faccia! È ora di andarsene! Stai calmo! Cosa vuoi da me? Sei pronta, chica? Allora iniziamo! Cosa? Che sono queste borse? Tutte le borse che avevamo! È per questo che le cerco sempre! Ok, basta così! Ehi, lasciatemi andare! Nessuno sentirà i tuoi lamenti! Non importa quanto ti sforzi! Oh oh! Sai cosa è successo alle guardie precedenti, vero? E lo stesso accadrà a te! Quali sono le tue ultime parole? Un altro! Non mi arrenderò! Oh, fa male! Peggio per te, amico! Ma cos'ha? La rabbia dei polli? Oh oh oh! Sei nei guai! Oh! Smettetela! Cosa? È mattina! Wow! Sono sopravvissuto! È ora di andarsene da qui! Ehi, Gabby! Ci sei? Ma dov'è Gabby? Questo è il terzo turno! Aspetta un attimo, eh! Oh, giusto il tempo! Sì, che farà sì, cazzetta! Oh no! Non aver paura, farò in presto! Basta! Non scapperà più! È ora di combattere! Oh, proprio sul cirocchio! Questa era la mia mossa preferita! Credo che queste ti serviranno! Grazie! Buona fortuna! Ciao! Oh no! È ancora Freddy! Ehi! Ciao, Gabby! Dove sei stato? Michael! Sono felice di vederti! Sei stato via tutta la notte! Finalmente è mattina! Possiamo cancellare un altro giorno! Ora tocca a te! Grazie per la fiducia! Davvero ci rimane solo una notte? Ehi, Freddy! Non ce la faccio più! Non mi disturbare! Sono esauto anch'io! Ho bisogno di riposare! Cosa? Non c'è tempo per riposare! Dobbiamo prepararci all'ultima notte! Non vuoi che falliamo, vero? Ma che ci credono di essere queste guardie? Con questo nuovo aggiornamento non ci permeranno! Fatti vedere, Chica! Andiamo a schiacciarli! Molto meglio! Andiamo! Pico! Pico! Oh! Non ti luogo! Oh! Questi furfanti! Era solo una trappola! E adesso che faccio? Sono nei guai! Aspetta! È un pannello di controllo! Apri! Perdenti! Pagheranno per questo! Come ha fatto a uscire? Guardati le spalle! Può essere molto vicino! Via libera! È colpa tua! Perché? Perché gli ha dato le chiavi! Ecco perché! Riprendile! Oh! Poi attenzione! Controlliamo le telecamere e troviamolo! Uh! Credo sia lui! Prendi la radio e riferiscimi quello che vedi! Ok! E vedi di non tornare! Questo lo permerà di sicuro! La mia rete è invisibile! Già! Ma che diavolo l'avrà assunto? Sto iniziando la seconda fase! È meglio essere sicuri! Oh! Lo slime andrà bene! Oh no! È molto vicino! Gobi! Girati! È proprio dietro di te! Che cos'è questa roba afficcicosa? Oh! Ci incontriamo di nuovo! Gabriel! Salvati! Non farlo! È molto triste! Uh! Sono salvo! Smettila di inventarti le cose! Uh! 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 Tieni pure la rete! Ho bisogno di andarmene in fretta! Rimani qui per ora! Oh! Davvero l'ho fatto! Che giornata! Ehi! Aspetta! Non penserai di poter scappare così in fretta! Oh! L'ha fatto davvero arrabbiare! Uh! Hai preso la pistola? Vieni! Oh! Non c'è più! Controlliamo le telecamere! Forse l'ho lasciata a casa! Uh! Devo uscire da qui! Che cos'è? Hmm! Che significa? Grande? Piccolo? Proviamo! Wow! Ha funzionato! Wow! Che bella pistola! Ok! Non resterò qui! È stato facile! Non resta che ringraziare i ragazzi! Uh! Eccoli qui! Grazie! Sto arrivando! Oh! Sembra che abbiamo dei problemi! Come hai potuto? Ho solo avuto paura! Ti spaventerò ancora di più! Non minacciarmi! O cosa! Oppure... Non giocare con me! Tu! Freddy! Siete contenti di vedermi? Oh no! Uh! Scappa! Oh wow! Questi ragazzi stanno bene! Sto arrivando! Farò finta di essere uno specchio! Uh! Chi è questo bel ragazzo? Allora sarà il primo! No! Aspetta! È l'alba! Ce l'abbiamo fatta! Eravamo appesi a un filo! Abbiamo solo altre quattro nostri! Boo! Dovevamo spaventarli! Così! Uh! Uh! Che paura! Jackpot! Non è divertente! Per poco non lo schiaccio! Ehi! Ma guardali! Ho bisogno di tenerla al caldo! I miei piccoli cicas! Ecco qui! Ora possiamo continuare! Aha! L'agente Gabriele è qui! Uh! Eccole qui! Sono così carine! Uh! Allarme! Dobbiamo uscire! Proviamo! Dove sono i miei bambini? Non li ho visti! Uh! È terribile! Uh! Uh! I miei bambini! Ehi! Controllati! Ok! Seguiamo le piume e arriveremo dove si trova il ladro! Vai! Sono sicuro che siano state le guardie! Se solo potessi raggiungerle! Ehi! Le tracce si fermano qui! Tu? Una mossa in più e diventerai una frittata! Avanti! Vai dentro e niente sciocchezze! Sei molto fortunato! Giù! Oh! L'uovo! No! È il mio! Uh! L'ha preso! Anch'io ti ho preso, Freddy! Ti ho recuperato la mia pistola! Ora non ti aiuterà più niente! Ti darò un vantaggio, guardia! Come sta andando, Bobby? Non avvicinarti più di soppiatto! Wow! Che figata! Niente di che! Lo voglio fare anch'io! Insegnami! Ok! È un grande onore! Giù! Non è giusto! Questo è il mio stile da tigre! Non mi importa! Anch'io sono una tigre! Sei forte! Davvero ottimo! Bravo! Finalmente vi ho trovati! Ehi! Troverò un modo! Miau! Oh! L'ho mancato! Sarai il prossimo! Un attimo! Le mie mani sono come delle armi fredde! Davvero? Allora prestate! Mi arrendo! L'orologio! Quanto tempo rimane? Un attimo! Ragazzi aiutatemi per favore! Mettete un like a questo video e il mattino arriverà prima! Non posso farcela senza di voi! Per favore fate in fretta! Oh! Strano! C'è che se ne è andata! Allora ha funzionato! Wow! Sei! Gabi? Stai bene? Oh! Ho vinto? Oh! Certo che no! Quanto tempo ancora devo rimanere qui? È noioso! Ciao, tica! Non posso uscire! Lascia che ti aiuti! Ok! Prendi la chiave! Ho capito! Tieni! Tica! Questa ti sembra una chiave? Non lo so! Ma la porta si aprirà! Meglio attappare le orecchie! 3, 2, 1, giù! Dov'è il boom? Forse è un po' umido? Ehi! Accidenti! Uh! La mia testa! Com'è possibile? Un attimo! Ho trovato delle uova! Guarda! I miei bambini! Sono pronta a fare qualsiasi cosa per loro! Non ci separeranno mai più! Ora possiamo andare? Sì, andiamo! Non posso credere che ce l'abbiano fatta! Come hanno fatto? Non ero pronto! Avanti! Chiuditi! Che brutto momento! Allora ci penserò io! Spero che stavolta funzioni! Ah! Finalmente! Devo riprendere un po' di piatto! Oh no! Stanno arrivando!